Vedo anche le altre, vedo anche Paris Saint-Germain, Arsenal, eccetera. Comunque, dicevo, l'Inter, a parte il gol annullato, che era in netto fuorigioco di 2-3, però non mi sembra sciolta come al solito. Cioè, però, voglio fare un appunto ai Zani. Tu lascio il Bayern Leverkus in attacco, vai. Sì, Boniface sponda per Incapie, pallone per Grimaldo sulla sinistra, ancora il numero 3 riceve, scarica per Ciaka, riceve ora il 34, che dialoga con Garcia, perde un po' di efficacia, almeno inizialmente l'azione del Bayern, che continua ad attaccare sulla sinistra con Incapie, ancora centralmente per Ciaka, Grimaldo, bella l'azione di Garcia, che libera nuovamente Incapie, scambio con Wirtz, nuovamente Tiki Taka del Bayern Leverkusen con Wirtz per Grimaldo. Scusate perché a San Siro c'è una punizione da posizione molto interessante, l'ha conquistata Mkhitaryan. Occhio però al Bayern Leverkusen con Adli, centrale, blocca Mignan, era probabilmente in fuorigioco. Lo so che succederà, segneranno in contemporanea, devo fare il tiro della monetina, una volta per sentire chi parla, vai. Punizione per l'Inter, al limite dell'aria, dicevo, guadagnata da Mkhitaryan, molto bravo nel pressing alto a recuperare un pallone, poi a subire fallo, quindi punizione per l'Inter al decimo minuto di gioco. Cialanoglu, lo specialista sulla palla, anche se la posizione è leggermente depilata sulla destra, ma parte lo stesso il turco, il tiro, è il gol di Cialanoglu, grandissima punizione. Che va proprio a fil di palo alla destra di Glaser e lo batte. Dicevo un po' posizione defilata a destra, dove più un mancino li va a calciare. E invece Cialanoglu, con questo destro, palombella, arcuata, è riuscito a prendere il palo alla destra di Glaser, Inter in vantaggio, veramente una grandissima punizione di Akan Cialanoglu. La rivediamo, la rivediamo, dai. Bellissima, bellissima. Palo gol, prende proprio quasi, tocca anche a carezza il palo. Vediamo. Il palo è il portiere. Sì, sì, un leggero... Ah, deviata dalla barriera. Deviata? Gli ha alzata un attimino un colpo di testa. Vediamo, vediamo. Sì, 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 sì. C'è veramente deviata dalla... Grande traiettoria. Sì, grande traiettoria. Il portiere è sul suo palo, sì, perché la barriera è la messa a sinistra. È sul palo per una pala tesa, forte, secondo me, insomma... Però palo gol, siamo sinceri. Gran punizione, bellissimo gol. Lo dico ai gol quando uno li vede, insomma. No, complimenti a Cialanoglu. Inter in vantaggio, 1-0, con la Stella Rossa. Che succede? 12 minuti alla Bayern Arena, sempre 0-0. Il Bayern Leverkusen che sembra voler alzare i giri del motore. La formazione dice a Bialunso, quando attacca fa paura, quando difende potremmo dire la stessa cosa, nel senso che lascia molti spazi. Qui recupera un ottimo pallone con Frimpong. Ciaka indietreggia, ripartendo da Incapiegge, allarga sul primo. Intanto 2-1 del Borussia Dortmund sul 7. Ho detto che questa è una bella partita. Mi sembra però che il Milan non riesca più a costruire la prima azione, rimane sempre nella propria metà campo. Sì, adesso soffre la corsa di Adli, che viene chiuso da Tomori. Tiene in campo il pallone Adli. Tomori riesce ad allontanarlo. Leao non può raggiungere la sfera. Altra rimessa per il Leverkusen, con Tapsová che va a dialogare con García. Coinvolto Granit-Ciaka centralmente nel cerchio di centrocampo. Attende il movimento di un compagno. Trova nella fattispecie García, che accomoda nuovamente per il centrocampo. L'Inter in attacco con Pavard e Zelischi. Ancora Stella Rossa che ci incisca e poi perde palla, ridosso dell'aria di rigore. Quindi l'Inter ne approfitta. Ora però gestisce un po' di più questo possesso con Pavard e Zelischi che scambiano il pallone sulla destra, alza la testa il francese e va dall'altra parte. Ora Inter che ci prova da sinistra con bastoni come sempre molto avanzato. Alza la testa, il cross a cercare Dunfriss sul secondo palo. Dunfriss di testa fa la sponda per Arnautovic. Anticipato da Di Iga per pochissimo, ma c'è fuori gioco di Dunfriss. Vai Leverkusen. Occhio a Frimpongio che prova ad entrare in area dalla corsia di destra. Poi scarica per Ciaka. Altro giropalla sulla tre quarti del Milan da parte dell'Everkusen con Ta che tocca per Incapie sul versante mancino del campo servito sulla verticale Florian Wirz. Pallone poi aperto per Grimaldo. Altro scarico per Ciaka. Wirz chiuso da Fofanà che recupera un altro ottimo pallone. Poi è sfortunato nel rimpallo la rimessa per il Bayer Leverkusen. Qui buona dose di fattore C per i tedeschi che entrano in area con Boniface il cross. Il pallone non aveva completamente barcato la linea di fondo. C'è una deviazione. Allora calcio d'angolo per la formazione tedesca. Boniface è veramente devastante dal punto di vista fisico. Il centravanti della formazione di Ciabialonso dalla bandierina vedremo chi andrà qui. Era più fuori. Quale era uscita totalmente? Questi sono errori però io continuo a dire che in campo internazionale sono piccole cose che non si possono fare. Forner battuto da Garzia per Grimaldo. Ciaka tocca nuovamente per Garzia arriva il bel cross in area. Il pallone attraversa tutta l'area di rigore non trova nessuna deviazione. Se adesso il Bayer ne avesse segnato saremmo di fronte a un'ingiustizia. Tra l'altro col Barra si potrebbe ovviare a questi errori. Mi sembra proprio di sì ma non abbiamo ancora capito come funziona il VAR. Se me l'ho spiegato un giorno ci sto provando da tempo. Facciamo una trasmissione. Bravo, di una trasmissione sull'Ultras 1. Già abbiamo fatto... Che succede? Cartellino giallo per Mkhitaryan. Adesso vorrei rivedere il fallo. Ci sono le proteste sia di Cialanoglu che di Mkhitaryan. Fallo su Ndiaye. Il gigante che era andato un po' all'indietro per aiutare e far espirare il centrocampo della Stella Rossa e viene ammonito. Vediamolo qua l'intervento al rallenti. È un mezzo pestone. Step on foot. Codificato così dalla ora. Voleva prendere quasi il pallone di piatto però dopo va a pestare in effetti. Mamma mia. Cerca pure di evitarlo ma lo tocca sul collo del piede quindi step on foot. Secondo me è step on foot devi comunque pestare. C'è Bayern in attacco. Sì, Bayern che attacca ancora una volta sull'auto di sinistra il cross ma andiamo a blocca senza problemi. Vediamo se non riesce a ripartire mai. Tornandez a spazio per mordere Tornandez. Sarebbe stato ingiusto se avesse segnato il Bayern Leverkusen? Perché avete detto che la palla era uscita non è uscita. No, non è uscita. L'ho fatto vedere la ripresa dall'alto non è uscita. No, è uscita del tutto. Poi magari ci spediamo. Non è uscita del tutto. Basta tanto così e se dentro infatti lo sappiamo. A me sembrava... McKennie, vi ricordate Juve Lazio dell'anno scorso McKennie che era tanto di così a noi sembrava dall'inquadratura dall'alto sembrava che la palla mi sembrava dentro. Vabbè, adesso magari lo rivediamo. Siccome stasera sono il gran giurì a questo punto c'è pure la maggioranza in democrazia. Se il fatto abbiamo visto la cosa uno no e se no facciamo un'epannaccia. Hai detto che l'Inter stava soffrendo nei primi dieci minuti invece ha fatto due gol un annullato. vabbè, adesso vediamo se abbiamo... Allora travisi la realtà. Però, no, quello che mi faceva ridere... Senti, torna la volta fatelo parlare dite, dimmi, dimmi. Era che più che altro Inzaghi in conferenza stampa aveva detto eh ma bisogna avere grande attenzione di questa di questa di questa stella rossa e poi quella formazione che ha messo in campo è una formazione di uno che è convinto di vincere. La formazione che ha messo stasera in campo è quella di uno che sa che stasera vince anche con le seconde linee. Ora, tiro di bastoni alto poi io faccio sempre fatica nell'Inter a parte Arnautovic e Aslani oggi ce n'è uno in campo dei due a dire chi è il titolare cioè Devrai a Cerbi Devrai è un titolare bastoni c'è Dunpris Darmiano Dunpris è un titolare Carlo Saugustos è un titolare De Vrai non è più un titolare Taremi è un titolare De Vrai non è più un titolare non è titolare per voi ma nella testa di Zaghi sono un titolare Taremi non è un titolare facciamo la cronaca di sua potenza ma viene atterrato e quindi punizione per l'Inter fischia l'arbitro Zbayer la punizione per l'Inter che è veloce a battere quindi può andare ora a distendere la sua manovra sulla sinistra con bastoni e la cede a Michi Tarjan 1-2 con Carlo Saugusto ancora si va da bastoni giro palla per Devrai Devrai ora va a destra perché c'è traffico da quella parte allora si va da quest'altra parte anche Dunpris è marcato allora Pavarra torna al centro ora Inter che gestisce il possesso palla con calma rasoterra Devrai Zelischi Zelischi ancora da Devrai Devrai per bastoni e bastoni va ancora a sinistra da Carlo Saugusto no torna indietro da Devrai mi sembra che i Bayern percusi i giocatori hanno capito che possono menare e meno hanno fatto male Ebram speriamo non sia nulla di grave recupera palla Taremia ridosso dell'area di rigore attenzione Arnauto vinci il dribbling e poi si dimentica la palla che peccato non è una dimenticanza da poco attenzione al contropiede della Sterla Rossa ora Gondiaie sulla sinistra si allarga chiude Devrai perché Pavarra in avanti e allora il senegalese torna indietro perché Devrai fa buona guardia allora ancora Ola Inca che gira per Rade Krunic si è visto poco il bosniaco però ancora ora Stella Rossa che attacca con il nigeriano Ola Inca ancora per Krunic Stella Rossa sulla tre quarti che però preferisce si accontenta di tenere la palla e tornano indietro avanza anche Spice è rimasto in campo alla fine Der Kuzic mi sembra che Abram non ce la fa voglio capire cosa è successo perché probabilmente qua ha fatto un movimento strano nel tentativo di recuperare palla su Wirtz si tocca ripetutamente la spalla sinistra e Abram sinceramente non ho capito cosa si sia fatto occhio però al Bayer con l'azione in area di Wirtz il cross Mignarre spinge Frimpong alto ragazzi Frimpong è il terzo gol clamoroso che si divora la brutta notizia qual è che si fa male Ebram chi deve entrare Morata che già non è meglio è rientrato in campo Ebram io spero che ci resti però è troppo occasione per le vercusa troppo occasione infortunatamente capito su Frimpong sul sinistro che probabilmente non è il suo piede perché c'è il loro terzo gol che era prevedibile Young Boys Marcello sta andando molto bene al Milan perché il Milan doveva già essere sotto almeno di un gol invece perché il protagonista assoluto stasera è Mignan davanti non ha ancora fatto un tiro in porta al Milan non ha ancora fatto un tiro in porta mentre invece io dico a Michele che sì l'Inter sicuramente è superiore al Stelarosa ma attento attento perché vedo che ci sono delle ripartenze sempre pericolose dei serbi pericolose non so però ha ragione che bisogna chiudere le partite andiamo avanti adesso per esempio un recupero palla molto buono di Taremi in attacco con Mkhitaryan a limite dell'aria per Arnautovic ancora Mkhitaryan la palla che resta lì il tiro di sinistro alza sotto la traversa scusami Michele Pulisic può puntare ta Pulisic arriva al limite dell'aria Pulisic ce l'ha sul destro forte Radecki centrale arriva ora il primo tiro in porta del Milan meno male se l'ha chiamato il vate Marcello Tirico con il destro di Pulisic centrale parato da Radecki però ottima ripartenza del Milan peccato perché qua Pulisic era ripartito molto bene se Marcello dice il Milan non ha ancora segnato esatto no ma io non ha ancora fatto un tiro in pola il primo che fa qua è il 40esimo ma è un'analisi corretta lui sei l'ha interpretata da tifoso non da analisi ma è la realtà infatti è vero bravo Taremi a recuperare una pallinaria di rigore Taremi serve Arnauto vince gol di Marconi Taremi molto bravo a recuperare la palla la dava Arnauto vince che quasi a porta vuota la deve solo piazzare mettere nel sacco Inter che raddoppia la strana coppia Taremi Arnauto vince far raddoppiare l'Inter Internazionale 2 Stella Rossa 0 al 14esimo della ripresa che è successo che sventola di Fofana il pallone che non passa lontanissimo dall'incrocio dei pali dal nulla questa è chiamorosa ragazzi no qua io non ho capito Renders cosa ha fatto c'è pensava di avere un uomo alle spalle invece che calciare con il destro incrociando se la sposta sul mancino di suola una cosa assurda ragazzi ha parlato come Dudek nella finale assurda Dudek fatto così anche se il cerco era da solo esatto è di te la mia forza dai ricominciamo con presentiamo un attimo del gol bravo bravo Taremi è la seconda volta anche nel primo tempo era andato a rubare una palla i difensori della Stella Rossa a volte cinciscano vogliono tenere palla e Taremi è la seconda volta che ruba palla in una posizione favorevolissima molto bravo poi alzare la testa Arnautovic è ben piazzato lo serve di piatto in orizzontale Arnautovic poi non deve fare altro che tenere la palla bassa e segnare il 2-0 aveva segnato con l'Atletico Madrid all'andata l'anno scorso negli ottavi e poi se n'era mangiati tanti tra l'altro uno abbastanza simile come posizione in campo abbastanza simile Arnautovic l'anno scorso due gol in Champions League anche uno in casa del Benfica e cinque in campionato adesso ha ripreso a segnare gli vuole dare minuti e anche importanza perché Inzaghi dice bisogna contare su tutti e ora il pubblico di San Siro che si fa sentire perché il 2-0 dà energia forza l'incomitante Siamo in Germania scusa te lo dico perché il Bayern ha avuto la chance per il 2-0 non sfruttata con una grande discesa come sempre di Frimpong sulla destra il cross è leggermente lungo non ci è arrivato Attenzione Michiterian ancora per Arnautovic il tiro la parata di Glaser quasi doppietta per l'austriaco che ci ha preso gusto ancora brava l'Inter a recuperare la palla sulla tre quarti Michiterian tra i migliori in campo lo serve ma Arnautovic stavolta sbaglia Germania Sì opportunità per il Leverkusen non sfruttata con un tiro direttamente sul fondo occhio al Milan con Leao la bella palla per Ebram c'è l'uscita di Radecki che anticipa la porta è vuota calciamo vi prego ragazzi Leao non calcia la torca per Reinders entra in area di rigore Tigi c'era sul destro il cross completamente sbagliato calcio d'angolo dai ragazzi su che ci siamo forza sì che le hai anche grosse perché potenzialmente sono grosse queste chance da gol calcio d'angolo a Sanzino palla in mezzo Glaser blocca e quindi non ha difficoltà a far ripartire adesso l'azione della Stella Rossa che accuse il colpo perché comunque il 2-0 è importante per lì di un momento di difficoltà calcio d'angolo del Milan Pulisic dalla bandierina con il destro a rientrare rispetto alla porta difesa da Radecki vediamo se sfruttiamo un calcio da fermo scocca ora l'ora di gioco entriamo nel 61esimo sempre 1-0 per il Bayer cross di Pulisic buono sul primo palo Boniface è un gigante ed allontana poi male Frimponghi in fase di costruzione con il regalo a Reinders che riparte da Megnana è pronto a entrare in campo Alvaro Morata io con tutto il bene che voglio a Loftus Cic spero che sia lui a lasciare il campo perché oggi Loftus Cic oggettivamente l'Inter in contropiede attenzione palla sulla sinistra c'è Carlos Augusto solo il tiro parata se lo mangia Carlos Augusto che peccato un contropiede una bella ripartenza dell'Inter dal basso ora però attenzione perché capovolgimento di fronte c'è la Stella Rossa in avanti sulla sinistra con la Inca però circondato da due Dunfis e De Vrij fanno buona guardia i due olandesi ancora per ora El Snick per vie centrali con Diaje scambia ancora palla sulla sinistra Maximovic la parata di Sommer ma Carlos Augusto ha avuto l'occasione del 3 a 0 un piattone che peccato quello è un gol veramente mangiato da Carlos Augusto solo di sinistro contropiede Stella Rossa sbilanciata brava l'Inter a ripartire con un'azione palla a terra Pavard Dunfris il cross e Carlos Augusto la sbagliata attenzione perde palla la Stella Rossa la recupera Taremi altissimo c'è Lautaro sulla sinistra lo serve il capitano che segna gol di Lautaro che torna al gol anche in Champions League e il suo tredicesimo gol in Champions League il capitano esulta 3 a 0 per l'Inter importante la differenza reti importanti i gol fatti bisogna continuare così molto bravo Taremi secondo assist palla recuperata da Taremi è la quarta con il secondo assist stasera bravo bravo Taremi che subisce pure fallo bravo Lautaro che finalizza in gol non era difficile però bisogna anche farli è grande palla recuperata diamo un errore del difensore con Sommer Aslani una curiosità statistica ho detto tredicesimo gol per Lautaro in Champions League anche il suo 132esimo un solo gol da Niers settimo all time della storia dell'Inter parte l'Inter con Carlos Augusto sulla sinistra che si fa tutta la fascia la mette in mezzo per Duflitz che arriva e la mette fuori di un niente scivolata forse anche si fuori gioco peccato però questa era una bella ripartenza adesso la Stella Rossa non sa più cosa difendere si butta in avanti e subisce le ripartenze Fofanà apertura sulla destra per Emerson Royale tutto lì il Bayern Leverkusen che sembrano non averne moltissime dal punto di vista fisico ancora Fofanà osserve i compagni in aria bello cross Borata centrale Radensky l'orto al pallone una grande palla di Fofanà per Alvarito che con un movimento molto simile a quello visto in campionato con il Lecce anticipa ottimamente Tazzobà sul primo palo devia troppo centralmente peccato perché era una bella palla quella crossata da Fofanà sparmia le forze in Zaghi dopo Cialanoglu entra Slani esce anche Vastoni incredibile incredibile scusami Miti perché questa è una follia di Radensky praticamente sulla linea di porta Morata per poco non intercetta il suo rinvio pazzesca pazzesca occasione dicevo l'ingresso di Bissek al posto di Bastoni quindi anche prova a risparmiare un po' di forze quindi si è giocato adesso già tutti e cinque i cambi l'Inter con Bissek che va a fare il centro-sinistra un piccolo esperimento che aveva già fatto nel finale di Udine anche se lui giocava nell'Araus in Danimarca prima di arrivare all'Inter un anno e mezzo fa proprio in quella posizione quindi può giocare benissimo anche lì ricordo che Thomas Palacios così come Correa non sono in lista Champions Inter che ora deve ripartire Sommer ha fatto rimbalzare il pallone un po' pericolosamente sulla schiena di un giocatore della Stella Rossa fallo di Frimpong direttamente su Mignan rivediamo nel frattempo cosa è successo con Radecki in capie da Radecki mamma ragazzi cosa ha rischiato Radecki a me sembrava addirittura calcio d'angolo qua giallo giusto per Frimpong perché Mignan in uscita prende il pallone Frimpong gli va addosso Mignan rischia di farsi male l'arbitro giustamente ammonisce il numero 30 dell'Everkusen ci sono due cambi nella formazione di Xavi Alonso con il numero 24 allora il 24 sicuramente è Garzia e non ho alcun dubbio il 22 fatemi andare a memoria su chi sia è Boniface quindi fuori Boniface e Garzia al posto di Garzia entra Hendrick invece al posto di Boniface ve lo diciamo subitissimo saremo più precisi fra pochissimo buona la partita di Boniface le due partite sono ferme ti do una curiosità di mercato di queste due partite anzi della partita del Milan in Leverkusen c'è Jonathan Ta che si svincola a fine stagione in scadenza di contratto e lo segue l'Inter lo vuole l'Inter era parametro zero però lui ha dichiarato oggi che la sua famiglia è Tifa Milano perché è sposato con una donna italiana i suoi Cering va bene interessante va bene dentro Andrick al posto di Garzia e Terrier al posto di Boniface vai con l'Inter Inter che ora riparte dalla difesa con Aslani testa alta ora avanza il giocatore dell'Inter torna indietro con Zelischi ancora il Polacco ora per via centrali c'è un Varco e ci si infila l'Inter con Taremi che va in verticale ancora per Lautaro stessa posizione del gol viene atterrato rigore rigore per l'Inter ancora ingenuità del capitano Spajc molto bravo Lautaro a togliergli il pallone dalla disponibilità arriva quindi il piede del giocatore serbo su di lui lo atterra nettamente rigore solare quindi ora andrà dal dischetto chi? perché ce l'hanno non è uscito potrebbe andare Lautaro per la doppietta per prendere Niers nella storia 133 vediamo se sarà lui o anche Taremi Taremi anche un altro ottimo rigorista in effetti Lautaro da buon capitano potrebbe lasciarla a Taremi che insegue il primo gol dopo aver fatto assist in casa con il Lecce a Darmian due assist oggi quindi se lo merita vediamo se Lautaro fa questo ragionamento perché lui ha già segnato vediamo 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 chi sarà il rigorista con la palla larga per Frimpong tutto solo Frimpong destro sull'estero ma ragazzi Frimpong si è divorato il gol del 2-0 e se la legge del calcio a iniziazione giusto? e se la legge del calcio qua ragazzi cauccio di rigore a San Sino mettiamo cauccio di rigore Taremi contro Glaser parte l'iraniano concentrazione nei suoi occhi contro il portiere Glaser recuperato per questa partita anche se era a rischio fino alla vigilia parte Taremi se l'arbitro è d'accordo perché ora sta parlando proprio con Spice che evidentemente sta ancora parlando dell'episodio precedente del pallo ora va anche da Lautaro l'arbitro tedesco dice c'è il VAR quindi hanno controllato stanno controllando dice l'arbitro ecco perché aveva chiesto Spice qualcosa forse ci può essere un fuorigioco e quindi ha rivisto quello perché il pallo era netto quindi c'è qualcosa che non va dal punto di vista del VAR vediamo perché non c'è comunicazione fra l'arbitro e l'arbitro segno l'arbitro ma non si capisce ancora bene è andato a spiegare sia a Spice che a Lautaro quello che è successo poi è andato alla panchina dell'Inter adesso sta andando ecco forse è chiusa non sente sì non sente il VAR quindi è confermato perché lo sta dicendo in tutti i modi con gestualità in tutte le lingue in tutti i tedeschi però lo sto dicendo arbitro tedesco lo dice sempre sentiamo nell'attesa di capire cosa succede con il Milan con Leao sulla sinistra Frimpong e Adli di fronte a sé allora scarica per Ternandez che osserva i compagni in area di rigore preferisce girare dalle parti di Fofanà sulla tre quarti del Bayer Leverkusen poi Fofanà entra in area di rigore aggredisce Fofanà tocca per Leao che mette un pallone strano dalla parte opposta può arrivare Emerson Royal che allora alimenta l'azione offensiva del Milan scambio con Pulisic ancora Emerson a difesa della posizione del pallone arriva un bel cross in mezzo Morata crolla a terra qua secondo me non c'è assolutamente nulla si tocca la caviglia Albaro rimane a terra l'ultimo tocco di Emerson Royal rimessa laterale per il Bayer vediamo cosa succede ha richiamato i capitani per comunicare che c'è il problema però cosa si può cosa si può decidere di fare non lo so perché in Italia abbiamo visto di tutto mi ricordo a Salerno quest'anno non andava la connessione hanno convocato tanto Borussia Dortmund vince 7-1 col 7 il punteggio gli hai battezzati all'inizio però queste goleate allora contano ripeto per la classifica il Bayer Monaco ne ha fatti 9 al primo turno il Dortmund adesso 7 al secondo questo poi dobbiamo dire una cosa visto che mi sembra che il gioco si ferma tutte due le parti in attesa di capire che cosa in mente l'arbitro dentro Ciuguesa Ciuguesa esce Mancano 11 minuti però se noi abbiamo rifatto il regolamento della Champions dico noi in senso retorico latino e poi alla fine ci ritroviamo sempre però mi sembra che sia per battere con l'Inter quindi parola a te Borrelli sì credo che l'arbitro abbia chiesto alle due squadre se gli va bene andare avanti senza il VAR praticamente gli ultimi 10 minuti si gioca senza VAR non ha chiesto permesso di Ultras no che non ci sono allora infatti allora Taremi Taremi parte dal dischetto all'ottantunesimo attenzione insegue il primo gol con la maglia dell'Inter il numero 99 Taremi contro Glazer parte la rincorsa dell'iraniano tiro di Taremi gol di Medi Taremi 4 a 0 per l'Inter che pareggio è il risultato di oggi della primavera 4 dei ragazzi di Zanchetta 4 dei ragazzi di Zanchi 8 gol alla Stella Rossa le due stelle rosse e sono anche le due le stelle sulla maglia dell'Inter 4 a 0 segnano un po' tutti gli attaccanti Arnautovic Lautaro e anche Taremi 4 a 0 aveva aperto le marcature Cialanoglu nel primo tempo con una grande punizione internazionale 4 Stella Rossa 0 all'ottantunesimo Allora i down possiamo risparmiargli anche perché poi Pavard nel secondo tempo è andato bene è il momento di magnanimità alla vittoria quando va tutto bene nel secondo tempo comunque l'Inter ha chiuso solo i migliori solo i migliori non ci sono i peggiori 4 a 0 non ci sono insufficienze ci possono anche essere allora Cialanoglu confermato il 7 poi è uscito al 60esimo Arnautovic oltre al gol anche buoni movimenti già nel primo tempo era molto attivo nel secondo poi ha impreziosito la partita col gol ma il migliore in campo per me stasera è Taremi perché ha recuperato palla nel primo tempo e ha creato un'occasione nel secondo l'ha fatto due volte e sono venuti fuori due gol poi ha battuto bene il rigore che come abbiamo visto l'anno scorso insomma all'Inter non è che ce ne sono tanti che battono bene i rigori quindi serve avere un rigorista in più bene Taremi bene anche Michi Itarian che non c'entra perché c'erano tre spazi e quindi una serata come dicevo prima positiva io invece non sono mai contento per me per me Zilinski comunque doveva fare di più perché era la partita da cui ci si aspettava qualcosa in più di lui quindi io il 5 e mezzo il 5 e mezzo glielo do soprattutto in un'ottica di vederlo in partite più impegnative di questa e poi mi aspettavo di più anche da Carlos Augusto perché ha fatto una parola dirigente dal punto di vista di effettiva ma questa cosa ce l'ha però se devi essere il sostituto di Di Marco allo stesso livello di Di Marco in fase offensiva devi darmi di più e quel gol mangiato non si può vedere Marcello sentiamo l'analisi di Chirico no io vi dico che sì l'Inter bene però il risultato per me è esagerato è vero che ha dilagato l'Inter ma ha dilagato nel momento in cui la Stella Rossa proprio è venuta meno dopo il 2 a 0 dopo il 2 a 0 la Stella Rossa proprio si è lasciata andare e qui ha dilagato l'Inter è venuta fuori tutta la superiorità dell'Inter ma fino al 2 a 0 la Stella Rossa è stata in partita infatti abbiamo ricordato anche varie occasioni della Stella Rossa quindi io dico bene il risultato vittoria sicuramente giusta perché l'Inter è superiore alla Stella Rossa però attenzione non mi sembra che l'Inter sia completamente si sia completamente rimessa a posto perché ho visto tanti errori a livello difensivo ho scesso troppo con la squadra inferiore sono d'accordo con te perché ripeto se ho dato delle insufficienze a differenza di Michele perché secondo me qualcosa in più si poteva fare due l'altro Carlos Augusto ma è insufficiente perché ha sbagliato un gol 5 e mezzo anche lui la fase difensiva però cioè in senso tu hai detto che devrai quasi titolare giusto? per me no stavo arrivando a questo non dimentichiamoci che comunque c'erano tante riserve in campo ma l'Inter si è mangiata 4 gol te li ricordo Carlos Augusto è davanti al portiere non va il discorso che facciamo noi in senso tu i primi 20 minuti hai rischiato perché tante non è finita Milan-Venezia Milan-Venezia 4 a 0 però il Milan aveva rischiato col Venezia poi non l'ho vista la partita non lo so ma pure Milan-Venezia non mi ricordo abbiamo dato insufficienza a Milan-Venezia quello che sto cercando di dire è che bisogna ricordarci a differenza di quello che pensi te che quelli che sono scesi in campo questa sera non sono a livello dei titolari quindi non puoi vedere la stessa Inter hai vinto 4 a 0 hai vinto 4 a 0 nonostante non avessi in campo i migliori non c'era Lautaro non c'era Turam non c'era Marella ma Taremi di oggi è meglio di Lautaro e Turam oggi Taremi ha dimostrato di stare meglio di tutti in attacco Cialanoglu e Mkhitaryan sono due terzi del centrocampo titolarissimo va bene almeno di quei due però così mi sfatate un mito cioè il passo storico dell'Inter che ha due squadre questa cosa non si può dire l'Inter è una rosa completa ma non è che tutti e 26 sono allo stesso livello infatti è bastata per vincere 4 a 0 perché scusami abbiamo sempre detto che l'Inter possiede quasi due squadre che è completa in ogni reparto c'è un sostituto per ogni sostituto che sono tutti di alto livello stasera scopro Marcello capirai che se togli Vlau e ci metti i mili che non è la stessa cosa nella Juventus e se togli Turam e metti Arnauto e dice non è la stessa cosa ce l'hai il sostituto però non è lo stesso di titolare vediamo abbiamo un'intera stagione per farlo ho la sensazione da queste prime due giornate di Champions e dalle prime sei giornate di campionato che per una qualche strategia condivisa non so se nazionale o internazionale almeno a livello europeo si stia limitando la presenza del VAR nelle partite perché c'è stata questa discussione non solo vero o falso quanto importante quanto non importante quanto autorevole chi sta lì non sta lì ma si è detto che il VAR interrompe la gioia delle emozioni rallenta le partite complica le discussioni e se gli arbitri fanno troppo riferimento al VAR o al VAR chiama troppo spesso gli arbitri che al di là del regolamento si allenta un po' tutto ho la sensazione che l'indicazione vedo poco VAR l'ho visto poco VAR sia in campionato che qua i tifosi cosa vogliono invece i tifosi cosa vogliono più VAR vogliono VAR ogni seconda i tifosi vogliono lo spettacolo i tifosi vogliono lo spettacolo Marcello tutti i tifosi del mondo lo vogliono però lo spettacolo non è un click che si preme e c'è lo spettacolo no perché siccome c'è sempre c'è il tifoso ha sempre il dubbio che gli stai portando via qualcosa e allora vogliono più VAR vogliono sempre l'intervento del VAR poi però nello stesso tempo come dici tu vogliono lo spettacolo e beh se vuoi lo spettacolo non puoi avere anche il VAR perché non puoi spezzettare la partita su tutto io su questo episodio ti dico hanno fatto bene andare avanti perché io vedo il piede di Noft per me è un dubbio però c'è poco in questo inizio di stagione sì ma è una chiara indicazione stanno arbitrando di più gli arbitri di campo ve lo dico statisticamente ma quella è l'indicazione proprio direttamente solo se non c'è il dubbio mi confermate quello che vi sto dicendo ma infatti anche in questo caso alcuni ex no ma ad ogni atto confermatevi quello che vi dicono no ma ho detto che infatti se no vi faccio gli up and down del tavolo no ma alcuni alcuni ex giocatori stavano appunto commentando questo episodio cercando di capire perché non è intervenuto il VAR perché dice non è sicuro al 100% perché è in aria o no intanto quello è da stabilire perché forse il tacco della scarpa di Lottucci tocca la linea se la tocca di rigore ma se noi che lo guardiamo col nostro occhio diciamo più o meno professionale ma abbastanza professionale di tutti attento e discutiamo e quindi si è aperta una discussione ma perché non si è aperta una discussione chi vede quelle immagini chiama l'arbitro a vedere le immagini in un controllo no ma non è così però no 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 però aspetta no però quello che dicevi non lo sappiamo se l'abbiano fatto o no il controllo su dove era sulla linea noi non lo sappiamo però per la modalità che dicevamo prima il VAR non chiama in caso di dubbio il VAR chiama se vede un chiaro ed evidente errore se c'è il dubbio non lo chiama e resta la decisione di Campos paradossalmente se l'arbitro qua è il rigore e non riesce a vedere la certezza rimane il rigore e lo so però questo è il la seconda mia battaglia che il regolamento del rapporto dovrebbe cambiare di campo e arbitro tecnologico è sbagliato punto e basta è burocratico è come le burocracie diciamo semplificate la gara degli appare semplificate questo rapporto fra questi due ma sai dove il gioco del calcio scusate fatemi finire per un secondo poi dopo avete tanto abbiamo tempo ancora 40 minuti cioè se il gioco del calcio oggi nell'epoca contemporanea nell'epoca della tecnologia delle rappresentazioni visive guardate io rispetto anche a quando ho fatto il direttore diciamo di intestate nazionali che hanno tutti i diritti no? quindi questa è la differenza non è una differenza qualitativa con il circuito network io mi ricordo che i produttori già all'epoca dieci anni fa dicevano a noi direttori ma lo sapete che la sera veniamo da San Siro con una cesta di cassetto che erano ancora i beta che sono 120 o 130 beta perché ci sono decine di telecamere centinaia di inquadrature che possono essere usate quindi pensi in dieci anni ancora come sia evoluta la tecnologia della rappresentazione visiva dello sport io credo che non c'è in televisione nessuna cosa come il calcio che abbia questa ricchezza di visuali e di interpretazioni e anche di spettacolo no? perché queste cose ci permettono una regia molto diversa rispetto allora di fronte a questo il fatto che l'occhio contemporaneo vede questo noi noi parliamo dell'occhio contemporaneo c'è l'occhio di internet e i giovani di internet l'occhio del calcio allora di fronte a questo quel regolamento lì sembra morto va vecchio va vecchio perché non aiuta l'arbitro di campo al di là della sua autorevolezza a risolvere questioni che noi invece da fuori come tifosi come analisti come commentatori vediamo e allora se poi alla fine quell'episodio là adesso stasera rimane un episodio dubbio rimane un episodio dubbio non risolto e allora se dubbio hanno fatto bene a non richiamarlo se è dubbio incide sul risultato hanno fatto bene secondo il regolamento che si sono imposti che per me esatto il regolamento è sbagliato però se c'è un fallo se c'è il fallo se l'off to stick no ma se l'off to stick tocca il pallone il discorso è semplice secondo me se l'off to stick tocca il pallone e l'avversario gli dà un calcio è fallo ma è semplice dubbio non dubbio non dubbio scusa Marcello Marcello scusami eh scusami eh scusami se l'off to stick va in anticipo se ascoltami se la dinamica è questa se l'off to stick va in anticipo no prende il pallone e l'avversario gli tocca il piede per me non c'è niente di dubbio quello è fallo ma poi rispute se è in area o è fuori area ma se è andata così se è andata così ma anche tu stai dicendo se ma perché no perché come è andata così se è in area o non è in area io non riesco e la discriminante è la linea o meno ma il fallo c'è il fallo c'è ho capito ma se è punizione il VAR non interviene ok ma il fallo c'è o no forse ho fatto un ragionamento che non è chiaro proprio perché ci sono tutti questi dubbi fra di noi la tecnologia interviene per dare un supporto all'arbitro di campo e dice senti vai a rivederlo quindi cambi il regolamento non accetti vai a rivederlo perché quell'episodio visto da un'altra visuale tipo a te anche che sei l'arbitro dare un'indicazione diversa se invece poi decide l'arbitro di campo che probabilmente è una visuale diversa dalla ricchezza di visuali tecnologici che noi abbiamo e quell'episodio però rimane oggi di dubbio e quindi secondo me abbiamo falsato questo ma per me se non lo richiamano è proprio perché come diceva forse in questo racconto manca la roba cioè lo richiamano proprio perché stanno consultando e hanno visto che secondo loro non erano valutato noi una cosa non sappiamo in questo racconto ovvero se è stato valutato o meno la posizione del piede che è la discriminante in questo momento perché se l'arbitro non fischia ed è dentro all'area di rigore per il regolamento che si sono dati allora devi intervenire il bar se non fischia ed è fuori dall'area di rigore quindi dovrebbe essere una punizione in quel momento il bar non interviene quindi noi non sappiamo se hanno rivisto la posizione del piede oppure no detto ciò per me era fallo doveva vederlo l'arbitro subito e poi al massimo verificare dove stava esatto questo discorso perché comunque c'era una punizione dal limite dell'area perché una cosa è stato chiaro Rocchi quando ha fatto gli incontri in inizio campionato nel dire la priorità io sto incentivando gli arbitri di campo a prendere delle decisioni in modo tale che il bar intervenga meno questo l'abbiamo te l'ho detto non sapendo di Rocchi te l'ho detto Rocchi l'ha detto esplicitamente quindi in questo caso l'arbitro interviene fischia perché il fallo c'è e poi dopo aspetta che il VAR decida se è dentro o fuori